Musica Nome Sandro Tony Cognome Canevaro Arbo Soprannome Canevaro Arbo Età Guarda 5 16 Professione Invistatore di regalo Crono Classe 72 23 Perché ti stiamo intervistando? Non lo so Non ho ancora capito Cosa non invidi dell'altro? I capelli Un aggettivo su Alessandro Coriace Paz Un aggettivo su Tony Talentuoso Bastante Cosa ti dicono quando ti fermano per strada? Potevo stare a casa Poi piano Poi troppo piano Chi è più veloce? Io Hai il rapporto a maletà Chi piega di più? Lui Chi è più simpatico? Io Dico lui Chi è più famoso? Lui Che rumore fa la tua moto? Asciutta o bagnata? Bagnata Asciutta Jesse Scaramantici prima di salire in moto? Zero Obiettivi per il 2017? Riuscire a fare un weekend di gara Un podio Come ti vedi tra dieci anni? Vole adesso MotoGP Il tuo pilota preferito? Tommy Ma Cresci perché sono la Valentina No? A mitare lui Però magari ci sono altre Che Tipo Gary McCoy Che lo guardo Quando sono piccolo Mi piace molto Dimmi un proverbio Non lo so La tua canzone preferita? Non mi rivasco Ma ne tante Però La preferita? Preferita Preferita Let me love you Forse Cantala Ok ragazzi Abbiamo finito Salutatevi Ciao